Buongiorno, sono la dottoressa Justin Farina e oggi ti voglio dare dei rimedi naturali se anche tu, come il resto delle donne, soffri per i dolori mestruali che sono dei dolori che si localizzano sull'area pelvica e che possono presentarsi sia da qualche giorno prima del ciclo ma possono perdurare anche per diversi giorni rappresentando un vero e proprio disturbo in alcune donne e il primo rimedio che potresti utilizzare è quello di assumere quotidianamente delle tisane infatti le tisane sfruttano le proprietà curative delle piante e delle spezie al fine proprio di calmare i dolori e alleviare la sensazione di gonfiore potresti bere delle tisane a base di camomilla, di lampone, di zenzero, di cannella in quanto vanno proprio a favorire il rilassamento addominale e in secondo luogo potresti iniziare ad assumere degli integratori degli integratori che in realtà contribuiscono nella riduzione dello stress che rappresenta una causa aggravante dei dolori mestruali questi integratori devono contenere magnesio, vitamina E, vitamina B1 e B6 e anche degli acidi grassi insaturi omega 3 e infine potresti anche utilizzare degli oli essenziali come ad esempio quelli di camomilla, di maggiorana che potresti diluire in degli oli vegetali come ad esempio l'olio dolce di mandorla e utilizzarli per effettuare dei massaggi sia ai piedi, alle gambe, alla zona addominale quindi in tutte le zone che ne risentono e che sono affaticate e infine l'ultimo rimedio che potresti utilizzare, che è quello classico della nonna è quello di utilizzare la borsa dell'acqua calda, metterla proprio sulla zona addominale in quanto favorisce proprio il rilassamento della muscolatura addominale e spero di esserti stata utile, ricordati che la farmacia di Nardo sta a cuore il tuo benessere